Non c'è alcuno slittamento. Se ci sono regioni che ritengono di dover ripartire dopo le elezioni perché ritengono utile fare un'unica sanificazione, possono farlo come meglio ritengono, come hanno fatto sempre nella loro storia. Lo sottolinea il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, durante un'intervista ad Agora Estate su Rai 3. Come ogni anno, il governo ha indicato la data del 14 settembre come quella per il via delle elezioni, conclude. Poi ogni regione decide autonomamente quando ripartire, così come è sempre avvenuto. E in Sicilia, come ribadito dal governatore Nello Musumeci, i responsabili di istituto avranno la facoltà di spostare l'apertura al 24 settembre, laddove non ci fossero le condizioni per il 14. Intanto comincia oggi il nuovo anno scolastico 2020-2021. Gli insegnanti tornano a scuola per le prime riunioni e la pianificazione delle attività didattiche, in attesa del ritorno a scuola degli studenti. Quello che stiamo per vivere è un inizio davvero particolare. Tutti voi, docenti, dirigenti, personale ATA, siete ben consapevoli del fatto che stiamo per scrivere insieme un capitolo nuovo e determinante nella storia della nostra scuola, scritto la Ministra dell'Istruzione, Lucia Zulini, in una lettera aperta al personale scolastico. E a proposito di personale scolastico, in Sicilia tiene ancora a banco la polemica relativa ai test sierologici. Ad alcuni medici di base non sono arrivati i kit per effettuarli, altri invece non hanno aderito all'iniziativa proposta dal Ministero dell'Istruzione e dal Comitato Tecnico Scientifico. Tra i tanti nodi è ancora da sciogliere anche l'incertezza sull'arrivo dei banchi monoposto, l'assenza di locali didattici adeguati per garantire lo sdoppiamento delle classi e la sicurezza nei trasporti degli studenti.